Bertoni qualora se avesse un tesserino sbagliato lo può riconsegnare qui in postazione ci siamo intanto al via questa prima serie partita partita questa prima serie il record è di Michele Lamberti del 2015 55 e 90 corsia 4 Lorenzo Pignotti miglior tempo di iscrizione per lui due medaglie d'argento ai criteri a 100 farfalla e 50 stile ma anche ottimo interprete di questa gara dei 100 d'orso è Pignotti proprio che si mette davanti dopo le prime due vasche con un buon vantaggio 27 e 79 a 94 centesimi e poi scognamiglio in terza posizione Lorenzo Pignotti che va ad incrementare il vantaggio nei terzi 25 siamo all'uscita dell'ultima subacquea quasi a metà vasca 10 metri e dunque ultime bracciate per Pignotti che va a prendersi la vittoria dei 100 d'orso ragazzi 57 e 16 per lui su David Gadiaga che risale fino al secondo posto 59 e 15 Castellan o meglio Montanari al terzo 59 e 37 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti